Ciao a tutti ragazzi, abbiamo dei nuovi prodotti, le nuove torce LED Lancer così tanto per curiosità e mettere un attimino l'attenzione su questo nuovo prodotto guardate, una torcia a 220 lumen abbiamo la classica luce bianca con la regolazione dell'intensità e l'effetto strobo la particolarità di questa è che e 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